Quando a Porto a Chega la Coração fica na rede, na rede, na rede, olá! Durante le fasi eliminazione ai gironi di qualificazione, praticamente tutte vittorie sia per una che per l'altra squadra, individualità di spicco da l'una e dall'altra parte, staremo a vedere questa partita come andrà a finire, insomma formazioni Borussia Trieste che ha segnato a Raffi che ha riuscito a fare addirittura 15-18 gol in una partita, cifre spaventose, dall'altra parte però Duricic, Azic, Plievalicic, praticamente Serbia Sport, prova subito Darko Plievalicic, C'è stata forse una deviazione di Scotto Diminico e subito i richiami della retroguardia in maglia nera, richiama la concentrazione anche il portiere Alessandro Franciolli, adesso va subito a rinvio lungo Ares Bineacque che tiene il controllo del pallone del gioco e la supremazia territoriale, qui Duricic è dimenticato dagli avversari, vuole il secondo palo, grande parata di Alessandro Franciolli, minuto 7.30 del primo tempo, sempre 0-0 tra Borussia e Ares Ora Visentin raddoppiato da Vojslav e Duricic, parte Azic, palla al piede, resiste al ritorno di un giocatore in mezzo a due, riesce a scaricare sulla sinistra, parte Duricic ancora, scheggia il palo Grande chance qui per gli Ares Bineacque, ma il nono siamo ancora a reti inviolate, 0-0, attaccano con grande decisione i giocatori in maglia rossa Ferma subito qualsiasi accenno di protesta o di screzzo in campo, ora occhio a Scotto di Minico, col mancino ci prova, Azic, la ferma lì, sinistro di Steffè E sul primo palo, dimenticato da tutti, arriva il vantaggio per i Borussia, Gianluca Steffè 10.30 sul cronometro, punizione di Scotto di Minico, che sembrava tutto sommato potente, ma senza pretese, senza pericoli per Daniel Ivic E invece ci ha messo il piede Azic, stoppandola di fatto per Steffè Buona possibilità questa, ne ha messi tre in barriera Ivic, c'è Scotto di Minico in appoggio eventualmente Parte Steffè, pallone verso Cotide, libero sul secondo palo, riesce a trovare un grandissimo gol La rete di Andrea Cotide, 2-0, metà del primo tempo, ha trovato un angolo quasi impossibile Non proprio precisissimo Daniel Ivic nella copertura del palo, nell'intervento, pallone che gli è passato in pratica davanti Ma ha scheggiato praticamente il palo lungo, Andrea Cotide con questo destro teso E in due minuti allora 2-0 Borussia Trieste, squadra di Maglia Rossa attacca, ci prova anche adesso con Plievalicic, grande Francioli però E dicevamo, i rossi ci provano, giocano, tengono il pallone, concludono, ma segnano i neri E questo non è proprio un dettaglio, anzi è quello che fa la differenza alla fine Cotide col corpo, reclamava qualcosa Azic, forse un tocco di braccio Adesso Steffè, Longo, sono in due e in mezzo, la palla passa, Kmet, grande finta Ilic prima di Visentin, rischiando anche qualcosa Con grande coraggio qui il portiere degli Ares Bineac, bellissima finta di Marco Kmet a centro area Con grande intelligenza, adesso Francioli ancora per lungo, Zurkic mette palla in tribuna Adesso Durkic, 1-2 con Azic, ancora Durkic, Plievalicic, stop, Francioli ancora ben piazzato Diverse le parate del portiere del Borussia Trieste, però sempre piazzatissimo Adesso Azic, allarga a sinistra, problemi per il controllo E ce l'ha anche Sascha Durkic, l'MLM in surplus, pesca Plievalicic, Azic Un po' pigro, adesso Plievalicic ancora, Visentin su di lui, pallone preciso verso Vojislav Tocco di ritorno, e da lì non può sbagliare Arriva il gol del 2-1, Vedran Kaurin Diciottesimo minuto Accorcia le distanze, Ares Bineac con un'azione ben costruita Stavolta bravo Vojislav ad alzare la testa, a vedere Libertà sul secondo palo Per Vedran Kaurin, pallone solo da spingere, o quasi Importante la presenza del portiere che si fa subito vedere per l'appoggio in sicurezza Adesso Zurkic di petto Poi Vojislav, Durkic servito in una zona di campo piena di maglie nere, infatti intercetta Steffè Con l'esterno verso Kmet, poi Azic, ancora la palla per Kmet, sinistro, Ilic si salva col corpo Altra possibilità molto molto invitante qui per i Borussia Invio lungo adesso dalle parti di Scotto di Minico Che torna da Franciolli Visentin arriva Vojislav, velocissimo, resta a terra Visentin colpito fortuitamente al viso, non lo vedono quelli di Ares Bineac Sbaglia Azic Adesso Scotto di Minico, ancora con Franciolli Che si stupa di giocare la corta Va lungo coi piedi, da lungo, preciso anche Poi Kmet prova a riproporre C'è Azic di testa Durkic con Cotide alle spalle Resiste il numero 5, qualità pura Ancora lui per Azic Vuole nascondere la Steffè, arriva Durkic Plievalicic, ancora Durkic Ancora il lavoro molto elegante Sullo stretto, Darkone, Plievalicic Trova lui lo spazio sul primo palo 21 e 30, pareggio Ares Bineacque E' lui che il timbro sul tabellino finale lo mette in pratica sempre Non poteva mancare anche quest'oggi Il pareggio allora di Darko, Plievalicic Dopo una pregevole giocata Orchestrata, costruita da Sasha Durkic e Dejanacic 25 rotti ormai, 25 pochi secondi Recupera Vojslav, regolarmente secondo l'arbitro Durkic con freddezza, trova Darko Plievalicic Chiedono la gamba tesa, il gioco pericoloso Quelli del Borussia Trieste non vengono accontentati dall'arbitro Che lascia giocare, doppietta di Darko Plievalicic E' sorpasso completato Scott Oliminico non sembra gradire E' vista la stazza, insomma non è il caso di pigliarsela tanto con lui C'è lui sulla traiettoria Arbitro col fischietto in bocca Ma attende ancora un attimo Ormai un minuto abbondante Oltre il tempo di recupero E' stata una piccola pausa per l'infortunio a Visintin Il tiro qui diventa buono per Kmet E non riesce a deviare verso lo specchio Nella porta di Danielevic Arriva quindi l'intervallo con due minuti in pratica di recupero E la situazione sul 3-2 per gli Ares Bineacque Andati sotto 2-0 con i gol di Steffè e Cotide Poi Kaurin fa 2-1 Plievalicic pareggia E ancora Darko Plievalicic porta in vantaggio la squadra in maglia rossa L'abitro mostra a tutti di avere un fischietto Cosa che è importante comunque Ragazzi ci penso io Fischietto Oh grazie Peccato che non ci sia le casse Si gioca da una quindicina di secondi Il secondo tempo di questa finale Over 35 Borussia Trieste in maglia nera Adesso è il tiro con Scotto di Minico Che però ha calciato fuori E che al momento vede i pali della porta avversaria come un'utopia Ci ha provato già tre volte Ma insomma senza riuscire a centrarla Dall'altra parte gli Ares Bineacque Che erano partiti malissimo Calciando a dire la verità In porta più degli avversari Ma dimostrandosi poco cinici Imprecisi E subendo due reti Da Steffè e Cotide In due minuti tra il decimo e il dodicesimo Poi lo recupero Con le reti di Vedran Kaurin E la doppietta di Plievalicic Proprio nel finale di primo tempo Cercato proprio lui Non riesce però ad agganciare questo pallone difficile La dimensa per Widmar Voislav Si fa vedere Azic Tocco di ritorno intercettato da Steffè Ancora alle spalle il numero tre Che non lo molla Steffè porta il pallone Viene fermato Cerca lo sgambetto a Plievalicic Grande palla per Duricic Sascha Duricic Gol del 4-2 Stavolta non ha restituito il favore ad arco Plievalicic È nato in autonomia Ha fintato il tocco di ritorno Ha chiuso il piatto con la consueta lucidità e qualità 5.30 sul cronometro Gol del 4-2 quindi Rientra Visentina al posto di un nervosissimo Steffè E scrive il suo nome sul tabellino Anche il giocatore probabilmente più dotato tecnicamente di tutti E adesso è il piazzato La posizione è defilata ma Potenzialmente comunque pericoloso Visto che va a tirare Scotto di Minico Che è un cognome solo lo ricordiamo Per chi si collegasse solo ora da casa Parte Scotto di Minico Sinistro Gol asso di Stefano Scotto di Minico Ed è destro Incredibile Mancino da distanza siderale E lui è destro signori In ganna in pieno Il portiere Daniel Ivic sul primo palo Arriva il fischio dell'arbitro Parte la bellicosa rincorsa di Scotto di Minico Ancora col sinistro In bagger il portiere Forse Mancino Si vede che calcia un po' con tutte e due Adesso Visentina Controlla nel traffico Li finisce addosso un avversario Vabbè entriamo in cronaca Dal due terzi di partita praticamente Chiaramente poi in telecamera Il commento c'è tutto dall'inizio E lo troverete in sintesi Sul sito ufficiale Crese Cup Tra qualche giorno Plievalicic fa tutto da solo Fa tutto benissimo Fa tutto meravigliosamente Poi però tira fuori Clamoroso veramente Situazione sul 4-3 Per la squadra in maglia rossa Fatto questo gol Insomma poteva mettersi un po' più tranquilla Fikmet Anzi Longo scusate Spinge leggermente Zurchic Mentre Piselli esce Non la prende benissimo Un po' di nervosismo in questa finale Azic Cerca da fuori il tiro Grande risposta di Francioli Pochissime le parate del portiere Del Borussia Trieste Rispetto a quelle del primo tempo Ma questa è veramente difficile Lo ferma con un bel intervento difensivo C'è Longo Alza la gamba Zurchic Ancora Longo Che la tiene col corpo Riesce ad andarsene Longo supera il portiere Arriva Azic Poi Kotide Prolunga su Plievalicic Solo potenziale Questa chance Enorme però Per il Borussia Che resta sotto di un gol Ricordiamo il prossimo incontro Che avrà luogo Qui sul campo 1 Sarà alle ore 22 Tra Termosoc SRL Seconda Classificata Della Crese Cup Contro l'Iwessa Gabriee E mentre intanto Arriva il gol Più facile del mondo Di Cristiano Visentin Anche onesto Il capitano Che ha aspettato Fino all'ultimo Per vedere se la palla Entrava o no Poi vedendo che era sulla linea Gli ha dato una spintarella Ed arriva quindi il gol Del pareggio De Borussia Quattordicesimo minuto 11 da giocare Più recupero Con un uomo in meno Pegliare Sbineacque Che sembravano in controllo E adesso invece Vedono la partita Sostanzialmente ribaltata Il pareggio di Visentin Ora ci prova in solitaria Duricic Azzic Col sinistro Deviazione Pallone destinato fuori Ma il piede di un giocatore In maglia nera per poco Non spedisce la palla in angolo C'è Franciolli Comunque In ottima serata Il portiere De Borussia E sfera Tra i guantoni di Daniel Ivic De Valicic Subito addosso Visentin Chiude con Steffè Visentin Supera un giocatore Vuole il destro Ancora Ivic Che chiaramente avrà abbastanza Da lavorare Poi qui si complicano Anche la vita In disimpegno Quelli di Ares Bineacque Ivic ha preso forse Un pestone sulla mano Insicurezza Come si suol dire Adesso Cottide Barone lungo Verso Longo Colpetto Grande controllo Longo Davanti a portiere Longo Lo supera Longo Diciottesimo Il gol Il gol di Longo Ci ha provato in diversi modi In questa partita Enrico Longo Trova nel momento Più importante Un gol bellissimo Peraltro Stop di petto Con colpo fortuito Perciò d'angolo Posizionamento Posizionamento Che ha cambiato Laurin Tocco per Duricic Da tre quarti Finte su Kmet Palla dentro Che non passa Può riprovarci Però il numero 5 Va a puntare ancora Kmet Hatzic In mezzo a tre giocatori Riesce a passare Con la punta Del piede Duricic Anticipo Poteva fare solo quello Non riesce però A indirizzare Coefficiente Di difficoltà Di questa giocata Piuttosto elevato Finalmente Il gioco riprende Ma non c'è più tempo È il Borussia A vincere Questa crese Over 35 La squadra Del capitano Cristiano Visentin Di Scotto Di Minico Di Steffè Di Cotide Conquista La crese Over 35 Battendo in rimonta Ares Bineacque Col punteggio Di 5 a 4 Subito In doppio vantaggio Il Borussia Trieste Con Steffè Cotide Poi però Arriva la rimonta Di Ares Bineacque Con Kaurin E doppietta di Plievalicic 3 a 2 Per i rossi A fine primo tempo Poi Duricic Fa 4 a 2 Scotto Di Minico Fa 4 a 3 E poi L'espulsione Di Widmar Voislav Sconvolge Un po' Gli equilibri In campo Borussia Trieste Ne approfitta La grandissima Pareggiando Quasi subito Quasi subito Con Visintin E mettendo Non esiti Quasi subito Quasi subito E i secondi Della Crese Cup Vale a dire Termo Sock SRL E i secondi Acque Buoni Montano Grazie a tutti.